Dottore, ma cosa sta facendo? Ok, aspetta. Quando armeggio così, dobbiamo azione. Azione! Eh, dottore, scusi, ma cosa sta facendo lì? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ma non lo vedi cosa sto facendo, sto andando via, Mau. Mi stavo mettendo questo nel capo. Ma io che testa ho formato a tre, la quattro non mi sta, c'è un capoccione. Ma cosa deve fare, bondage questa roba, cosa deve fare? No, vabbè, adesso, sai, con tutte queste norme, non so più. Ma dove va? Ma lasci per, dobbiamo fare lo spot, dove va? Dobbiamo fare lo spot. Come spot? Che spot? Lo spot di canzonà. Non possiamo fare qua lo spot. Al limite, lei stia lì, io faccio un salto in piazza Carducci, tanto si sentirà. Ecco, ci va la distanza, Mau. Quale distanza? Ma non ci sentiamo neanche, cosa facciamo con il walkie-talkie? Scusi, non esageri. Ma va bene, non prendiamo le cose troppo alla leggera, ecco. Io non so quale distanza adesso ci entrà. Una cosa che sono certo, che se venite a trovarci il vendi di settembre, ecco, al corso... Ma quale vendi di settembre, dottore? Siamo ad ottobre. Eh, dottobre. Ma io forse di fare musica, non capisco di neanche... Ma si tolga questa mascherina, non mi faccio... Ma non si capisce niente, se la tolga, scusi. Se venite il vendi di ottobre a Corso Parigi, ecco, rinizia il campionato di canzonato, tutto contingentato, pulito, disinfettato. Non patite niente, se non spendere qualche soldo. Una parte andrà solo a noi, quindi sosteneteci, venite numerosi. E certo, tutto va solo a noi, c'è solo da fare la tessera. C'è da fare la tessera. Ragazzi, le tessere se ne fanno veramente tante. L'importante è non fare la tessera, quella ancora, grazie a Dio, non è obbligatoria. Va bene, vi aspettiamo numerosi, insieme al trio Marciano, c'è Rosco al basso, c'è Mao, c'è Capitano Frido, ci sono ospiti e poi c'è la bella musica di canzonato. Vuole dire la sfida? No, no, Mao, non anticipiamo niente, venite il giorno 20 di ottobre a Corso Parigi. E dove sta Corso Parigi? Corso Parigi è il Cavarcavia, praticamente, dopo quello dove eravamo a Corso Bramande, vai più avanti. Ma che è Corso Bramande? Corso Dante, non confondere la gente. No, prima una volta eravamo a Corso Sommelier, adesso tra Corso Sommelier e Corso Bramande c'è Corso Dante. Vabbè, ho capito, dica Corso Dante, quello dopo, scusa. Si chiama Corso Parigi, non sapevo che si chiama Corso. Ma non si chiama Corso Parigi, il locale si chiama Corso Parigi, la via si chiama via? Non lo so io. Ma come non lo sa, via Arquata, scusami, non lo sa. Via Arquata, vi aspettiamo via Arquata Scrivia. Non sa niente, scusa, non si è preparato per niente, si parla a mettere altro che una mascherina. Numerosi, via Arquata Scrivia. Ma non è Scrivia, via Arquata e basta. Grazie. 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 Grazie.